Le dichiarazioni del Signore indubbiamente andano vagliate, tra l'altro queste dichiarazioni stanno per entrare in procura perché tutto ciò che viene detto in televisione è una prova. Quindi indubbiamente sono altri argomenti di cui si occuperanno i magistrati. Questa è una notizia che sta facendo il giro del mondo, non soltanto dell'Italia, perché ho verificato su internet stamattina, studiando un po' quello che avevamo dovuto in qualche modo discutere qui, che in Francia, addirittura nel Sud America si sta parlando di questo, perché questo è un colpo al cuore alla comunità cattolica. Il problema è che noi siamo circondati da una cultura cattolica, siamo nel paese che ospita, tra virgolette, che vive e convive con il Vaticano, una roba del genere indubbiamente diventa un colpo forte per chi si aggrappa alla religione, per chi non ha altro a cui credere, indubbiamente l'abuso della credulità popolare, la truffa sentimentale e religiosa, il turismo religioso d'accatto, indubbiamente tutto questo sta creando un grosso problema. Ovviamente adesso la magistratura verificherà soprattutto il passaggio di Danaro, ho visto che molti si stanno in qualche modo impegnando per verificare se le panchine fossero abusive, se ci fossero degli abusismi edilizzi, non è questo il punto, non è questo il problema, perché se veramente ci fosse stato qualcosa di miracoloso, credo che anche un magistrato zelante non si sarebbe preoccupato delle panchine, se sono agganciate al terreno o no. Il problema è che queste sono tragedie, perché non so se il signore riuscirà mai a recuperare questi soldi, non so dal punto di vista psicologico, e qui abbiamo Stefano Gallipo che è un grande psicologo, che ci potrà dire quali sono le ricadute psicologiche di queste persone, addirittura la mancanza di autostima, cioè c'è gente che a casa tornerà dal marito o dalla moglie e dire oddio che cosa ho fatto, ho dato 100 mila, ho dato 50 mila, quindi anche lo scontro all'interno della famiglia, propositi suicidiari, insomma il problema è molto serio, io credo che la magistratura approfondirà e dovrà, se ci saranno delle responsabilità, punire in maniera molto severa questi comportamenti, perché attenzione, il turismo religioso è diventato un fenomeno drammatico, non è la prima volta che sentiamo questo, mi pongo l'ultima questione, perché soltanto adesso si parla di questa questione? Sono anni che esiste questa congregazione, chiamiamola così, come mai soltanto il 2023 esce fuori tutto questo? Chi ha coperto, se c'è stato qualcosa di losco, questa situazione? E la Chiesa ufficiale, che cosa ha fatto? Chi controlla il controllore, si dice, no? Allora io credo che anche la Chiesa debba interrogarsi sul fatto che bisogna controllare certe situazioni, per evitare che poi si chiuda il recinto quando i boi sono scappati. Ma la cosa che... Allora sentiamo Rosana Lambertucci, che è qui in studio, c'è Don Francesco Cristoforo, buongiorno Don Francesco, Calipo, se vuole rispondere a quanto detto dall'Avvocato Gassani, Giovanni Terzi, e buongiorno a Valerio Rossi Albertini. Buongiorno. Allora, dimmi Rosana... Stavo dicendo che al di là poi del problema che ormai sta diventando...